Quarto da Roll Bri e Grosso, Bri e Grosso subito dentro e segna 2 punti di Filiberto e Grosso, Filiberto e Grosso Grande musica Quarto torno subito dentro e realizza, bravo torno, gran bel movimento Sbaglio il secondo, rimaniamo a meno 21, un minuto 17 da giocare Difesa allungata per San Giorgio, ma Salini qua da sole a schiacciare il più 23 Bravo, bellissimo Bellissimo, grande alleletto di Valos Inter Che amico Salini che schiaccia al giro Ragazzi, che spettacolo San Giorgio Grazie a tutti